Un programma operativo sanitario che mette a rischio la salute dei cittadini e che per questo deve essere ritirato, lo sostiene l'ex governatore, consigliere regionale Michele Iorio, che evidenza i punti critici del nuovo POS e si dice pronto a promuovere una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Toma. Perché finora ha girato in lungo e largo in Molise promettendo tutto a tutti, compresa naturalmente a Isernia dove ha detto che avrebbe garantito i servizi e quant'altro, la stessa cosa ha fatto a Termoli. Oggi presenta un POS e lo manda all'approvazione dei ministeri che contengono delle contraddizioni enormi per quanto riguarda l'organizzazione per la salute dei cittadini. Lasciamo stare le questioni di principio. Qui si tratta di salvaguardare la salute di chi è colpito da infarto, che in tutta la provincia di Isernia deve in qualche modo spostarsi a Campobasso, magari dopo aver fatto la diagnosi a Isernia e quindi aver perso ulteriore tempo per poter definire di che cosa si ha bisogno, e poi si va a Campobasso ammesso che si trova il posto disponibile. Questo è un servizio in meno che si dà ai cittadini e è un pericolo in più per la propria vita. Cor più grave è la questione dell'emorragia cerebrale, che se qualcuno o qualche paziente è colpito da emorragia cerebrale deve prima fare anche qui la diagnosi, chiami l'ambulanza, vai al pronto soccorso, si fa la diagnosi, si fanno gli esami, la TAC e quant'altro. Una volta definita la diagnosi di emorragia, nel Bolise non è più possibile fare nulla se non spostarsi a Pescara o a Napoli o da qualche altra parte. Quindi praticamente ore e ore con l'emorragia in atto io credo che le possibilità di vita si riducano veramente al lumicino. Ora mettere in pericolo la vita dei cittadini in un documento di programma che dovrebbe essere la programmazione di come sarà il futuro della sanità, seppure nel futuro noi dovessimo dar retta a questo posto, noi stiamo organizzando il funerale della sanità pubblica molisana. Questo è un danno che non può essere consentito. Allora o Toma ritira questo strano documento oppure io gli presenterò una sfiducia e spero di trovare le firme necessarie per poterla discutere quanto prima possibile. Giorio si dice scettico anche sulla realizzazione del nuovo ospedale a Disernia. Non si avverte assolutamente il bisogno di una struttura fisica diversa, semmai qualche aggiustamento. Spero che Toma si sia fatto dare tutte le relazioni che riguardano la situazione del Cardarelli di Campobasso, la cui torre, che tutti conosciamo, presenta dei deficit di staticità perché costruite in epoca pre-terremoto, nel senso prima che venissero fuori le nuove leggi che stabiliscono alcuni parametri, per cui noi teniamo un ospedale che ha veramente bisogno di una forte ristrutturazione antisismica e ne costruiamo un altro dove non si avverte la necessità di farlo. Io credo che sia una bufala.